Il pubblico ministero della procura antimafia di Reggio Calabria ha richiesto una pesante condanna a 484 anni di carcere per i 27 imputati nel processo derivato dall'inchiesta Tre Croci. Tra le condanne richieste è quella più pesante a Salvatore Bagnoli a 20 anni, Domenico Bartuccio 18, Franco Barbaro 16 e molti altri con pene variabili. L'inchiesta, denominata Tre Croci, lo ricordiamo, si concentra sul traffico internazionale di cocaina con la droga che arrivava al porto di Gioia Tauro tramite un portacontainer. L'organizzazione criminale, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era formata da un'alleanza composta da un gruppo napoletano, Imperiale Carbone, e da un gruppo riconducibile all'andrangheta dei Bruzzaniti impegnati nel reperimento, acquisizione, importazione e trasporto in Italia della cocaina. Nell'inchiesta ci sono poi 14 portuali corrotti coinvolti, accusati di aver organizzato una gestione fraudolenta dei containers movimentati in porto. Il meccanismo prevedeva che gli intermediari comunicassero ai lavoratori portuali il nominativo della nave e il codice di riferimento del container in cui era occultata la cocaina. Una volta arrivato in panchina, il contenitore veniva sbarcato e collocato in una zona del porto ritenuta sicura dagli stessi portuali, i quali poi provvedevano all'apertura e al recupero dello stupefacente, che veniva successivamente inserito all'interno di un secondo container. Particolarmente rilevante, sempre secondo l'accusa, il ruolo di un doganiere, in particolare un funzionario operativo presso il servizio antifrode, che secondo quanto emerso avrebbe truccato gli esiti dei rilevamenti degli scanner. Secondo l'accusa, i portuali erano infatti al servizio di diverse cosche, Piromalli, Crea, Alvaro, Gallico, Ladini e Pedullà. Un'operazione che nel 2022 aveva anche portato al sequestro di oltre 4 tonnellate di cocaina del valore di circa 800 milioni di euro e che ora vedrà l'opportunità per le difese di discutere le posizioni degli imputati durante le prossime udienze, mentre la decisione finale è prevista dopo l'ultima ringa difensiva il 22 aprile prossimo.